Ehi, Prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di informare il mondo. Eccomi qua, Prof Michetti, ma che gente gira qui sotto. Ma dico io, se vuoi delinquere, almeno mettici la testa. Di che parla, Pulce? Di un tizio, mi permetta uno scemo. Ma puoi condurre per strada contemporaneamente due biciclette? Senza che la polizia ti noti, ma vuoi farti arrestare? Proprio qui sotto, Prof Michetti, se lei ha una bicicletta parcheggiata, controlli se c'è ancora. Perché altrimenti, se si affaccia, vedrà quel brutto ceffo con i poliziotti che lo stanno interrogando per strada. Chissà che scuse inventa. Pulce, c'è poco da inventare delle scuse. In questi casi, debbono essere fornite valide giustificazioni circa il possesso e la provenienza delle biciclette. Altrimenti, scatta il reato di ricettazione. Ma la ricettazione c'è anche se non risulta alcuna denuncia di furto di quelle biciclette? La Cassazione è chiara. Per la ricettazione non è necessario che ci sia l'accertamento del furto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza anche solo attraverso prove logiche. E allora, hai voluto due biciclette? E allora pedale in carcere! Pulce, sa cosa diceva Arthur Schneitzler? Può impedire ad un uomo di rubare, ma non di essere un ladro. La Pulce e il Prof. Sapere è potere. Prof, prof, prof.